amici finite da pochissimo la caccia alla pod della moto gp vignale esprimo morbidelli secondo quarta raro terzo rossi quarto miller quinto bagnaia sesto poi credo rins settimo dovizioso mi pare non qui la grafica si è un po rimbicciolita quindi morbidelli che ha tentato fino alla fine comunque aveva trovato anche la pole quasi definitiva però vignale lo ha bruciato all'ultimo ora tocca la formula 1 ci vediamo tra più o meno un'oretta circa per la formula 1 comunque speriamo domani di vedere il morbido rossido vizioso in forma per dare spettacolo grazie a tutti e buona formula 1 moto gp a tutta la prossima ciao